Siamo tempi dal cielo chiuso, e quel che oggi sembra grandezza non è che prepotenza. Conosci quest'uomo? D'annunzio è come un dente guasto, o lo si ricopre d'oro o lo si stirpa. So benissimo di essere spiato, controllato, raccoglierà informazioni per noi. Niente deve essere tralasciato, neanche le storielle piccanti. Raccontali che una volta d'annunzio si è portato a casa una fruttivendola della zona, mi ha chiesto di stendersi nudo sul pianoforte, si è messo a quattro zappe e ha cominciato a inseguire la fruttivendola. Pare che presto ci sarà la guerra. Di ogni idea, bella, se ne realizza sempre una versione più cupa. Questa è la fine di tutto. Non sapevamo quel che eravamo, non sapevamo quel che volevamo. Ed ecco che sappiamo quel che siamo e quel che vogliamo. Questa è la fine di tutto.